Prova? Oh, live! Ci siamo, ci siamo! Metto anche i tappini per le orecchie, così dovremmo essere pronti per tutti. Tutto bene? Tutto bene, cari amici? Ciao Magic Moon, ciao Moreno Biscaro, ciao Rossella Bell, e ciao a tutti quanti, ci state raggiungendo in questo orario, che so essere un orario molto pieno di live, so essere un orario con poca banda a disposizione, lo so, però insomma questo è quello che c'è a disposizione e speriamo quindi di riuscire a farvi compagnia anche oggi. Come state nel frattempo voi? Siete partiti bene con questo nuovo inizio di settimana? Vi siete riposati sabato e domenica? Siete stati a casa? Bene bene, io sto bene, grazie, 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 grazie. Allora, ragazzi, ospite di oggi, mamma mia, ospite veramente super, Maurizia Cacciatori, anzi, per dirla alla milanese direi LA Maurizia Cacciatori. E quindi bene, dai, sono contento, parleremo un po' di leadership, parleremo un po' di motivazione con una grande donna, un grande esempio, una grande atleta. Allora, nel frattempo, se registro, sarà tutto videoregistrato e per qualche tempo le videoregistrazioni di queste live le teniamo anche sul nostro canale YouTube, che, insomma, Luca Mazzucali, psicologo, mi beccate, le trovate. Nel frattempo ho braccato la Maurizia, come si dice, e la giù. Siete pronti? Vediamo se ce la facciamo, vediamo se la banda ci aiuta, se regge. Eccola, ciao Maurizia, grande! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oh, come stai? Tutto bene? Oggi è un giorno importante, eh? Oggi è un giorno che tutti mi hanno dedicato 100 di questi giorni, il mio compleanno, ma anche no, 100 di questi giorni così. Però va bene, dai, sono contenta. Tanti auguri, Maurizio, tanti auguri e grazie per dedicare un po' del tempo di questa giornata preziosa anche a noi, veramente, ti sono grato. È un piacere enorme, davvero. Senti, è stato un compleanno diverso. Tu com'è che stai vivendo un po' questi giorni con la quarantena, la pandemia? Poi tu, scommi, hai anche dei figli in casa, cioè una routine di un certo tipo? Raccontami, sono curioso. Allora, diciamo che io ho attivato, innescato, diciamo, il chip ritiro in nazionale. Cioè, devi sapere che quando noi andavamo in nazionale con, veramente, col volley, con tutte le mie compagnie, stavamo mesi e mesi rinchiuse in ritiro. Quindi, quando entravamo il primo giorno era un delirio, perché sapevamo che ci aspettavano magari 30-35 giorni in cui dovevamo solo allenarci, non si poteva tornare a casa. Quindi, mi sono ricordata di quei periodi e ho detto, dai, riattiviamo questa modalità. Certo è che ci si allenava, era tutto un altro atteggiamento, però devo dire che una sorta di allenamento ero già, diciamo, abituata. Brava, brava. Quindi sei entrata in quella modalità. Vabbè, sì, d'altra parte, insomma, così è, così è. Senti, allora, Maurizio, intanto, insomma, sei un personaggio anche simbolo, no? Da un certo punto di vista grande professionista, la pallavolo temminile ha preso il alto volto, no? A rappresentanza di tutto questo. Volevamo un po' parlare con te di questo, un po' della tua esperienza, dello sport, come ti ha cambiato. Questo è anche un periodo un po' difficile, no? Quindi già tu ci hai detto un insegnamento che lo sport ti ha dato, che tu stai cercando di attuare nel presente, che è quello anche un po', come dire, dello stare nella sofferenza, del resistere. Com'è che si può definire, secondo te? Guarda, è un momento dove, secondo me, quando tutti parlano di cambiamento e tutti dicono abbiamo paura, no? Di cambiare. Io penso che tutti siamo già cambiati e il cambiamento fa parte del nostro percorso. Quindi, ora, è un cambiamento che non cercava nessuno, hai detto tra noi. Però io credo che se le cose non cambiano, dobbiamo cambiare noi. E quello che dobbiamo fare in questo momento è una sorta di resilienza, perché non è facile, nessuno è felice di rimanere in casa. Io poi ho due bambini piccoli, quindi non è semplice. Però allo stesso tempo dobbiamo essere anche dei piccoli leader, nel senso supportare, supportare chi sentiamo magari al telefono che è un po' giù di morale, cercare di dare un input più, cercare di essere così. Questo, secondo me, è un'arma vincente, perché lo possiamo fare e magari lo stiamo già facendo. E non possiamo tirarci indietro. Anche perché indossiamo tutti questa maglia, che è quella azzurra, ormai siamo tutti giocatori di relazionale e dobbiamo andare avanti. Non è facile, perché io, quando Conte ha fatto il primo comunicato che dovevamo rimanere in casa, ho pensato subito ai miei figli. E non è certo una realtà che voglio dare ai miei bambini, quella di oggi. Però so che è una sorta di prova che devo fare, che devo insegnare anche a loro, no? Allora a loro questa battaglia col coronavirus, ora sono anche un po' rotti. Ma siamo sicuri che la vinciamo? Io continuo a dire sì, sì. Però ecco, aiutare chi c'è a fianco, essere leader di noi stessi e anche per gli altri. Bellissimo, bellissimo. Senti, allora, motivazione. Perché è anche un tema di motivazione, no? Che adesso continuare a stare motivati, avere fiducia, avere speranza nel futuro, che serve tutto questo sacrificio, che l'impegno paga. Ecco, tu che rapporto hai avuto con la motivazione? È cambiato nel corso degli anni? Sei sempre stata una con una grande motivazione? Oppure prima hai preso qualche bastonata? Allora, io sono uscita di casa molto presto. Avevo poco più di 16 anni. E quindi sono entrata in un team che era un team già fatto, di giocatrici già professionisti che avevano vinto di tutto di più. E quindi cosa succede? Che ero una ragazzina, ero molto giamburrasca e ho imparato velocemente a parlare poco, perché io chiacchieravo, discutevo, parlavo di qui, parlavo di là. Quindi a capire veramente com'era l'ambiente. Lavorare e cercare di portare a casa il risultato. Il risultato lo porti a casa ogni giorno, passo dopo passo. Non è stato semplice, perché io volevo anche fare altro. Mi sarebbe piaciuto, non so, andare all'università, fare le cose che facevano le mie compagnie, i miei compagni di scuola, del liceo. E invece a me era evitato. Non c'erano gite, non c'era nulla. Però avevo questa passione che è importante avere. Chi non ha passione è come se il cuore non li battesse. E quindi io comunque nascondevo tutto, perché mi piaceva stare con le mie compagne, con le giocatrici di squadra, con l'allenatore, con lo staff. Quindi questa resilienza c'è stata, però allo stesso tempo è stata molto motivata dal fatto che mi piaceva quello che facevo. E questo è sicuramente. Io sono sempre stata tremenda. Ma ad esempio? Ma cosa vuol dire Giamburrasca? Facci capire. Giamburrasca per dire io amavo tantissimo le Big Bubble. E ancora adesso, diciamo. E quindi io facevo gli allenamenti con le Big Bubble, che non è proprio un bel biglietto da visita. E io avevo questo allenatore grandissimo, che è Bernardo Rocia, che è stato allenatore della nazionale brasiliana, sia maschile che femminile, e lui era tutto in un pezzo. E giustamente vedeva questa ragazzina toscana che, insomma, ero anche brava, però con la Big Bubble che la faceva scoppiare, non ero proprio correttissima. Però mi hanno sempre voluto tutti molto bene, perché sono sempre stata molto genuina. Senti, quindi diciamo, tu dici, nei momenti in cui c'era un calo fisiologico, magari della motivazione, tu ti riconnettevi alla tua passione e riuscivi a trovare l'energia. Esatto, esattamente. Ma non c'è mai stato un momento in cui anche, insomma, adesso avvene la passione, però sai quante volte ti allenavi, quante ore, cioè immagino degli allenamenti… Facciamo prima a portare le volte che ti allenavi, tutti i giorni, poi c'era la domenica la partita, però alt, se la partita non andava bene era possibile che il giorno dopo si rifacesse allenamento. Ho fatto allenamento alle 5 del mattino per punizione, abbiamo fatto allenamento dopo mezzanotte per punizione, quindi ho visto tantissime situazioni. Però devo dire che non mi sono mai tirata indietro e ho trovato anche dei grandi punti di riferimento in tante mie compagne, per ritornare al discorso che il leader motiva altri leader. Esatto, questo è importante. Quindi diciamo, sto selezionando gli ingredienti per una motivazione top. Allora, sicuramente la passione, poi un altro tu mi dici il network relazionale che è capace di energizzarti, ogni tanto ti energizzi tu e ogni tanto ti restituisci a questa cosa. Esatto, esatto. Questa è una parola chiave, diciamo, il fatto di vedere quando magari avevo delle compagne che erano… perché tante volte mi è successo di dire basta, non gioco più a palla a volo e voglio una vita normale, no? E invece mi sono sempre resa conto che è nei momenti di difficoltà dove si vedono i veri fuori classe, no? È in questo momento che stiamo vivendo che si vede chi ha la stoffa del campione. Non perché dobbiamo essere tutti dei campioni, ma perché comunque dobbiamo dare valore e qualità ai nostri giorni e alla nostra vita. E allora dobbiamo pensare che quando sarà finito tutto, noi ci gireremo indietro e diremo, cazzarola, noi questi giorni li abbiamo affrontati a testa alta e nessuno si è tirato indietro. Questo secondo me è importante. E questo era un tuo pensiero che ora stai riattualizzando, ma che anche quando eri in nazionale ti dava forza? Certo, perché io tutte le cose che ho fatto, giuste o sbagliate che siano, comunque le ho fatte sempre di testa mia e sapendo che i momenti non potevano essere sempre meravigliosi. Io dico sempre che il vero vincente è colui che trova un giusto equilibrio tra dei momenti fantastici a momenti veramente terrificanti, no? Chi trova il giusto equilibrio, quindi chi non si esalta troppo quando le cose vanno alla grande e chi non si butta giù troppo quando le cose vanno giù è un vero vincente. bello. Allora, senti, quindi abbiamo detto il network delle persone che ti danno forza, poi abbiamo visto la passione, poi adesso anche quest'ultima cosa che dicevamo su pensare al futuro, pensare al futuro, come sarà quando mi guarderò indietro, bello. E volevo chiederti anche se all'interno di questa ricetta, per restare un po' su, diciamo motivati, tu hai mai adottato delle buone abitudini? Nel senso che quando parlavo con Pietro Trabucchi, che è uno psicologo dello sport molto importante, lui ha approfondito tanto il concetto di resilienza, lui mi diceva, vedi, io vedo che i grandi sportivi hanno un certo punto della loro carriera, della loro quotidianità, insomma, in cui non hanno la voglia di alzarsi dal letto per andare ad allenarsi. E allora lì quello che vince solitamente è la buona abitudine, no? La routine di comunque farlo in automatico, col pilota automatico. Noi avevamo sempre il pilota automatico inserito, soprattutto quando eravamo stanche. Era un po' una modalità di allenamento. Abbiamo avuto tanti allenamenti che ci dicevano proprio quello che ci dici tu. Nel momento in cui vorresti mandare tutto all'aria, nel momento in cui cresci e quindi ogni allenamento, e ti racconto che noi siamo stati davvero in situazioni abbastanza difficoltose, perché con la nazionale è vero che abbiamo visto posti meravigliosi, ma abbiamo visto anche dei posti tosti, difficili, non tornare a casa, fare un sacco di sacrifici. Però era quel valore dei nostri giorni, io lo dico sempre. Pensare che comunque devi dare valore a tutto quello che hai fatto, devi essere orgoglioso. E quindi ogni mattina, ogni lunedì, io dico sempre, le coppe si vincono dal lunedì mattina, no? E si conquistano se meritatamente la domenica. Quindi ogni lunedì, ogni martedì, ogni mercoledì, ma questo vale non solo per gli sportivi, ma per tutte le persone. D.C.: Ovvio. Allora, mi è venuta in mente, mentre parlavi, un'altra chiacchierata interessante che abbiamo fatto nei giorni precedenti con Alex Bellini. Maurizia, Alex Bellini è un esploratore, è un po' folle, però è quella follia che cambia il mondo, che lui praticamente con una barca a remi ha fatto la traversata dell'oceano a remi, con una barchetta di due metri e mezzo, una roba pazzesca. E lui diceva, ci ha messo 260 giorni, partito da Genova e arrivato in Brasile, in mezzo all'oceano con le onde di sei metri. E lui diceva questo, sempre un altro proposito della motivazione che mi sembra interessante aggiungere anche altri elementi. Quando ti viene voglia di mollare, pensa perché hai iniziato, perché un po' si ricollega al tema della passione che tu dicevi all'inizio. Alex Bellini è giustissimo, è giustissimo. A parte il fatto che non andrei mai con lui a fare nessuno, a parte che sono fifonissima, è terribile. Però è giustissimo, perché io ricordo quando ho lasciato casa, che ho fatto questa valigia e sono andata a vivere in una città che era lontana da casa mia. E ricordo quel viaggio, quel viaggio fatto di mille pensieri e di mille sacrifici, perché non era semplice. Però quei giorni lì me li sono sempre ricordati. E quindi non ho mai voluto buttare via quello che è stato importante, partendo proprio da quando ho iniziato. Questo è importante. E poi un altro spunto che dava Alex Bellini, secondo me, è che si ricollega anche a quello che tu hai detto del fatto che tu vinci la partita partendo dall'allenamento sette giorni prima. Lui diceva quando sei lì in mezzo all'oceano, sei disperato e non sai più da che parte ripartire, parti dai remi. L'unica cosa che tu puoi controllare, ci sono delle cose che non puoi controllare, altre le puoi controllare. Cos'è che puoi controllare? Remi. Una remata dopo l'altra, sai che dopo tot milionate di remi arriverai dall'altra parte. E fa un po' duetto con quello che si diceva prima. Sì, giustissimo. Ma poi per quanto mi riguarda il mio ruolo è sempre stato un ruolo particolare, perché io sono stata la palleggiatrice, quindi la regista, e dalle mie mani dovevano uscire le palle migliori. Quindi devi allenarle in continuazione, in continuazione. E non sempre vengono, quando si parla dei momenti degli attaccanti che non riescono a segnare. Perché vanno un attimino in defiance. E allora si ritorna a quello che c'è chiaro e solido. Quindi ritorni a allenarti davanti al muro, a fare 300-400 palleggi e non molli mai, sempre pensando che quella deve essere la palla che soluziona la partita. Senti, il tema delle aspettative, che poi sui personaggi simbolo le aspettative assolutamente sono anche molto più ampie degli altri. Delle seconde linee che magari sono ugualmente preziosi, ugualmente importanti, però sono un po' meno sotto il fuoco mediatico, eccetera. Tu com'è che lo gestivi? La paura del giudizio, della sconfitta? questa è una bellissima domanda, perché devo essere sincera. All'inizio ero molto succube da quello che pensavano le persone. E questa cosa mi toglieva completamente il fatto di essere obiettiva. Quindi io giocavo pensando a quello che si aspettavano gli altri. E giocavo bene, ma non ero io. E quindi il giudizio di quello che dicevano, ha giocato bene, ha giocato male. Ero anche molto giovane, avevo poca esperienza. Poi c'è stato un momento in cui giocavo veramente malissimo e ho pensato che dovevo smetterla di stare ad ascoltare il giudizio altrui. O meglio, dare valore ai giudizi, però dare valore anche a quello nel quale io pensavo. E questa è stata una chiave di lettura importante, perché è logico che quando entri a giocarti in l'Olimpiade, in una finale di Champions League, i giudizi ci saranno sempre. Ed è logico che non potrai mai piacere a nessuno. Però devi fare le cose per bene. Per bene per te, per il tuo team, e andare con la coscienza a posto. Detto questo, io ho fatto il salto, diciamo di qualità, perché non dico me ne sono fregata, però ho pensato a tutto quello che abbiamo fatto, tutti i sacrifici, a tutti i miei momenti belli, momenti brutti, e ho detto cavoli, ma cosa me ne frega di quello che pensano gli altri. Vai avanti per la tua strada e per la pace. bello, bello questa cosa. È un po' tutti quanti noi nella vita, no? Poi abbiamo a che fare con… ed è un po' un problema, no? Quando la paura di ciò che pensa gli altri limita la nostra libertà. Poi, sia chiaro, dobbiamo soppesare, tu dici giustamente, le critiche, però poi andare avanti. Non pregarcene, basta. Esatto, e molte critiche poi hanno anche spesso, no? Un qualche cosa di costruttivo. Senti, l'altra cosa che ti volevo chiedere, mentre parlavi, no? Tu prima dicevi gli allenamenti per punizione, oppure dicevi contro il muro a tirare la palla? Allora, a me è molto in mente Mimia Yuara, Mile Shiro. Ma quanto c'è di vero in questa cosa? Ti ricordo che la palla a volo, diciamo, in Giappone è veramente sentita. E quello che vediamo nei cartoni animati sono veri. Quando giocavamo contro la nazionale giapponese facevano lavare il palazzetto alle giocatrici. E erano molto, molto rigidi. Le giocatrici montavano la rete, raccoglievano i palloni. Invece noi italiane, o comunque tutte le altre giocatrici delle altre nazionali, non è che stavano a pulire il palazzetto. Io mi ricordo che queste giocatrici abbassavano lo sguardo davanti ai allenatori. Io sono sempre stata più tenace, diciamo. E quindi è vero, è anche vero che la palla a volo è anche uno sport dove le regole, come tutti gli sport, devono essere seguiti. Io ho avuto degli allenatori, ho avuto un allenatore cinese che era terrificante, e ci faceva fare delle difese allucinanti, tipo 100 difese, e se sbagliavi la novantesima ritornavi a zero. E sembrava proprio di far parte della squadra di Mile Shiro, ecco. Tu eri più Mile Shiro o eri più Mimia Yuara come background? E poi tutti e due. Nato con Mimì, ovviamente, e poi continuo con Mila, perché non l'ho mai smesso. Però devo dire che quei cartoni, guardandoli, mi caricavano da morire. Ed è stato l'ultimo per il quale ho iniziato a giocare a pallavolo. Certo. Senti, allora, e qui vorrei entrare un attimo, perché hai toccato due punti che a me interessano. Il primo è quello della tenacia, il secondo è quello della leadership. Allora, tenacia. Cioè, di fronte a questi allenamenti massacranti, immagino, ma correggimi se sbaglio, c'è chi ci sta e c'è chi dice, eh no, porca miseria. Cioè, signori, questo per me è troppo. Allora, è utile un allenamento vero? Cioè, adesso, obiettivamente. Ma è l'unico modo, Maurizia. Cioè, sì, magari più di ci sia uno spartiacque necessario. Oppure… Allora, devo essere sincera. Io sono stata una gran, si può dire, rompi i coglioni con gli allenatori. Perché se c'era qualcosa che non mi quadrava, io alzavo la voce, andavo direttamente di fronte allenatori, dicevo, questo non è giusto. Mi hanno sempre chiamato l'avvocato delle cause perse, perché mi dicevano sempre, fatti i cavoli tuoi, no? Però cosa succede? Che quando c'erano questi allenamenti intensi, quando abbiamo avuto allenatori anche particolari che ci davano un cucchiaino da caffè di olio da dosare per il primo, il secondo, cioè anche questo abbiamo fatto, eh. Io ricordo che rispondevo semplice, ma perché dobbiamo stare a questo regime? Mi ribellavo tantissimo. Quando in palestra vedevo tante mie amiche che soffrivano, io però andavo lì e gli dicevo, dai, non mollare, non mollare. E poi odiavo terribilmente allenatore. È anche vero che c'è una soglia, un limite, ecco, nel senso che non è che abbiamo avuto allenatori così tremendi. Erano molto rigide, io li prendevo anche tanto per il culo, nel senso che ci ridevo anche sopra. Però oggi non è neanche più così, non credo che sia così, almeno non mi riferiscono più tante colleghe in situazioni di questo genere, ma quando ho iniziato c'erano davvero degli allenatori abbastanza coloriti. Avranno anche loro visto Milè e Shiro e avranno preso come modello quello lì, no? Quello massacrante. Certo, le pallonate addosso, le che si copre, sì. Mamma mia. Senti, allora, qui ecco c'è un po' il tema della motivazione ancora, scusami, perché un altro concetto che viene spiegato spesso nei libri di psicologia dello sport è che un buon allenatore, cioè la motivazione com'è che viene passata dall'allenatore ai giocatori? Non tanto attraverso quelle iniezioni istantanee di dai 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 che ce la fai, che per carità servono e non si buttaglia nulla, ma la motivazione viene passata all'interno di una relazione che richiede tempo per essere costruita. Non so, io ho in mente Ulio Velasco ad esempio, che dicono che curava il rapporto, cioè non è che dice dai dai dai, eh no, c'è c'è una frequentazione, sì, e poi lì allora tocco le corde giuste, tac, per farti partire, o no, ti ritorna. Sì, io ho avuto davvero degli allenatori come Giulio Velasco che sono stati davvero fantastici, perché? Perché io credo che un buon allenatore sia quell'allenatore che quando manda in squadra, manda in campo la propria squadra, la sua squadra è in grado di ragionare e attuare all'unisono e quando fa un time out sa perfettamente che ognuno prenderà la sua responsabilità. Questo è un grande allenatore. Un allenatore che fa il time out e prende l'atleta e gli dice adesso devi fare questo, poi spostati dietro, poi muoviti come un burattino. Non è un grande allenatore secondo me. Puoi dare delle indicazioni tecniche, giustissimo, di come spostarsi, di quello che bisogna fare. Però il vero allenatore è un leader che fa crescere altri leader. Quindi quando raggiungi l'obiettivo hai la tua squadra che pensa con la tua testa. Bello. Leadership. Allora, mi piace questa definizione. Una delle definizioni che più apprezzo di leadership, una delle riflessioni che più mi piacciono intorno al tema della leadership è quella di imparare a valutare un leader, cioè la bontà di una persona, diciamo, non tanto dagli obiettivi e dai trofei che raggiunge lui, ma da quanto migliorano le persone che entrano nella sua orbita. Cioè, questo anche nella vita, al di là dello sport. Cioè, io mi chiedo questo, va bene, ma quel leader lì, dopo che è entrato in contatto con Tizio, Tizio è diventato più stressato o più felice? Ha ricominciato a studiare o ha abbandonato la cura del sé? È più ricco o più povero o insensolato? È un po' simile come concetto quello che dici tu? È giustissimo, perché io ho avuto a che fare sportivamente parlando con tantissimi leader e spesso si pensa a un leader come una persona che apre le porte a tutto. E invece, secondo me, il leader è una persona che sa ascoltare, è una persona che costruisce, è una persona che chiede anche aiuto ed è una persona che sicuramente non cerca delle scuse, ma delle soluzioni per uscire velocemente. da una situazione difficile. Ho avuto anche tanti leader molto silenziosi, però magari i loro silenzi valevano più di mille parole, quindi devo riconoscere che sono stata molto fortunata e devo riconoscere che anche io nel mio piccolo ho sempre cercato di capire prima la persona che avevo a fianco in squadra, per poi riuscire a trovare un filo di connessione, quel fil rouge che ti serve per portare a casa il risultato. Prima bisogna conoscere le persone, perché da ogni persona possiamo trovare il meglio o anche il peggio, ecco. bello. Quindi possiamo dire che, mi piace questa lettura, non ce l'ho mai fatto caso, cioè che la leadership inizia dall'ascolto, inizia dal silenzio. Bravissimo. Bella questa. C'è una gran differenza tra l'ascoltare e il sentire, perché il sentire è una cosa passiva. Io ti dico una cosa, la sento, mi esce. L'ascoltare invece è che te presti proprio attenzione. Quindi il leader ha questa facoltà di sapersi far ascoltare e non sentire. Quando vedi quegli allenatori o quei giocatori che urlano, vai, quella, e vedi gli altri che lo guardano, ma dove vai, capito? Quello non è un leader, capito? Magari trovi una persona molto silenziosa che viene da lei e ti dice, guarda, spostati dall'altra parte. Allora ti presti molto più attenzione. Senti, allora, quindi se è vero che un leader genera altri leader, io vorrei sapere, il leader, il leader Maurizia Cacciatori, da quali leader è stato generato? Eh, da tantissimi allenatori, da tantissimi compagni di squadra. Io ho avuto una compagna di squadra che si chiama Carmen Pimentel, che era tremenda, era tremenda, è una giocatrice peruviana, non è andata via, è una giocatrice peruviana e quando io arrivai a Perugia ricordo che lei non mi faceva far vita. Io la odiavo terribilmente. E invece lei stava cercando di farmi crescere, no? Piano piano, facendomi capire che, insomma, io venivo da Carrara, ero la starletta, diciamo, della squadra, mi sentivo molto molto forte. Lei invece mi faceva capire giorno dopo giorno che per diventare forti bisogna essere sempre coi piedi per terra e saper lavorare in silenzio e mettersi a disposizione della squadra. Io questo non lo sapevo perché ero molto giovane. Io avevo vinto il trofeo di Topolino a Montalcino e io pensavo di essere la giocatrice più brava del pianeta. E invece era una bimbetta di 15-16 anni che doveva davvero fare tanta strada. Quindi tanto umiltà e tanto lavoro. Quindi ho avuto davvero grandi leader, ho avuto tanti allenatori incredibili che hanno saputo anche ascoltarmi, nonostante io sia molto colorita come persona perché mi diverto e cerco sempre di scherzare, a volte anche troppo. Però ecco, ho trovato tante persone che mi hanno dato gli strumenti per essere una persona migliore. Senti, il momento più difficile della tua carriera? Il momento più difficile è quando un'allenatore della nazionale non mi portò al mondiale e la nazionale italiana vinse il mondiale. Quindi proprio infiocchettata e infiocchettata alla perfezione. E ricordo che quando ci fu questa finale dell'Italia per il mondiale, io mi ero rinchiusa in un cinema e stavo guardando un film perché non volevo vedere nessuno. Ed era estate, sulla fine estate, faceva un caldo incredibile. In quel cinema non c'era nessuno, c'ero solo io. Mi ricordo che mi chiamavano tutti col cellulare perché praticamente avevano vinto le ragazze. Da una parte ero contenta per le mie compagnie, però dall'altra mi giravano le scatole da morire perché avevo fatto tutto quel percorso con loro e poi era partito l'aereo per Berlino e io non c'ero. Quindi tipo fantozzi. Però mi è servito, mi è servito tanto perché invece di mollare lì e mandare tutti a quel paese, io poi ho capito che dovevo dimostrare ancora di più che non era finita e che dovevo essere ancora più tenace. E questa è la differenza, no Maurizio, tra chi vede le cose come una sfiga o come una sfida. Cioè, cambiando una semplice vocale, una semplice consonante cambia un po' tutto il mondo. Tu sei una così, no? Ma sì, la sfiga viene a chi pensa di averla. Io penso sempre nel discorso, cioè penso sempre che le persone che si piangono, che piangono su loro stesse perdono solo del tempo. È logico che ci sono situazioni che ci possono dare grandi dolori, come l'ho vissuta io. E non è facile passarlo quel dolore, perché non è che mi è passato da un giorno alla notte. Però cavoli, siamo qui per vivercela, no? E quindi non stiamo a piangerci addosso e guardiamo avanti. Senti, tu hai dei rimpianti rispetto un po' adesso a… No, no. Non mi piace proprio neanche la parola rimpianto, perché io credo che tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto perché c'era una motivazione. E poi perché comunque quello che ho scelto io, devo essere sincera, l'ho sempre scelto di testa mia. Ho sempre ascoltato molto poco. Però oggi, riguardandomi indietro, forse l'unico rimpianto… ecco, forse sì, un rimpianto sì, perché io ho avuto i bimbi a 38 anni, i miei figli, che sono quasi due gemellini. E forse se li avessi fatti prima, sì, perché ora faccio fatica a stare lì dietro, perché sono più tremendi di me. E quindi, insomma, non è semplice. Però è anche vero che non avrei fatto la carriera che ho fatto, quindi avrei smesso anche prima. No, va bene così, dai. Niente, va bene così. C'è qualcosa che quando ripensi un po' a quei giorni, a quegli anni, ti manca in particolare? Al di là dei rimpianti, eh, c'è proprio un discorso… Guarda, a me manca… Allora, quando io ho smesso, anche… io sono stata molto, molto serena, perché io sapevo che avrei smesso… io ho smesso a 33 anni, quindi io sapevo che tutto all'inizio è una fine. E quindi quando mi dicono, eh, quando ho smesso non sapevo cosa fare, mi viene rabbia, no? Perché quando si smette, comunque si ha davanti un panorama incredibile con degli strumenti che sono importanti, te li devi giocare. Quando io ho smesso, io sapevo che avrei smesso e non volevo piangermi addosso. Ho ricominciato nel mondo della comunicazione, con strumenti differenti. Ora, io non volevo più essere la giocatrice di pallavolo, perché tutti mi dicevano, eh, quella della pallavolo, quella della pallavolo. E sono rimasta anche oggi quella della pallavolo. Però devo dire che sono orgogliosa di tutto quello che ho fatto, dalle cose più stupide alle cose più sagge. Senti, quanto è stato strong il passaggio tra una fase e l'altra della tua vita? Perché comunque, insomma… poi adesso magari ci racconti un po' meglio che cosa fai a livello comunicativo. Io so che lavori tanto in azienda. Però ecco, c'è qualcosa che ti ha aiutato a gestire questa fase? Perché insomma tutti noi, no? Poi adesso probabilmente un po' tutti noi dovremmo reinventarci, probabilmente, no? Anche dopo il coronavirus. E quindi che comporta chiudere o abbandonare o mettere da parte una parte del passato per abbracciarne una nuova. C'è qualcosa che ti ha aiutato in particolare? Tu come l'hai vissuto? Allora, la mia forza è stata quella di sapere un anno e mezzo prima che avrei smesso. Non lo sapeva nessuno che avrei finito la carriera. E non volevo neanche la festa d'addio che mi fa una tristezza, questi saluti quando si finisce la carriera come se uno fosse morto. Mi viene tristezza, perché secondo me è una parentesi meravigliosa e se ne riapre un'altra. Avevo le idee molto chiare. Avevo le idee molto chiare e quando ho smesso sono rimasta un po' così, perché ero abituata il giorno dopo a ricominciare ad allenarmi e invece non andavo ad allenarmi. Mi mancavano molto le mie compagne, questo è vero, tutte, anche quella più antipatica. Mi mancavano tutte. Però avevo iniziato a vedere una tipologia di vita completamente diversa. Una vita dove potevo scegliere dove andare, mentre prima invece sapevo che dovevo andare sempre solo in palestra. Una tipologia di vita dove potevo conoscermi meglio, perché io non sapevo se ero in grado di comunicare o no. E mi piaceva molto la comunicazione. Non mi piace la televisione, infatti mi avevano chiesto, mi avevano fatto offerte, ma non mi piace perché non sono spontanea e quindi volevo seguire quel percorso. Piano piano, con tutti gli strumenti che ho allenato durante la mia carriera di pallavolista, quindi la collaborazione, lo studio e l'empatia, ho cercato di iniziare piano piano e ora sono molto orgogliosa di quello che ho fatto. La tua giornata tipo adesso, al di là di questo momento un po' così, che lavoro fai adesso? Allora, diciamo che io lavoro nell'ambito della comunicazione e porto tutti i valori di, diciamo, dello sport, quindi resilienza, leadership, team spirit all'interno di un'azienda. Perché non sono d'accordo quando dicono che un'azienda non è una squadra, perché all'interno di un'azienda, come nel tuo lavoro, se non fai squadra non vai avanti. E quindi porto queste tematiche in convention, in giornate di formazione. E mi piace tantissimo, perché fondamentalmente mi rendo conto che porto in azienda quello che io ho vissuto tutti i giorni in squadra. Ora, mio marito, la mattina mi svelo, solitamente lavoro su Milano e parto molto presto, perché io vivo a Livorno. Quindi la mattina devo partire prestissimo, intorno alle 5. E mio marito mi guarda e mi dice, ma dove vai? Cosa racconti? Se sapessero chi sei! E poi mi guardo, arrivo all'autogrill, quelli dell'autogrill vincono il solito, che è drammatico il solito l'autogrill. E poi procedo e faccio la convention, la giornata, e poi torno a casa. ottimo. Senti, invece la tua giornata tipo adesso, in questi giorni? Beh, farei molto la mamma, non so. E quanti anni hanno i tuoi bimbi? Che classe vanno? Allora, i bimbi hanno 8-9 anni. Quindi seconda, terza, quarta elementare. Quindi bisogna fare i compiti online, giusto? Anche tu? Anche io ho tre figli. Sì, sì. No, vabbè. Allora, io sono semplice perché i compiti online li seguo, cioè li seguo, li guardo con i bimbi così velocemente. Ma poi il pomeriggio c'è il terrore della giornata, perché i miei figli odiano studiare come tutti i bimbi. E io mi sento una grande professoressa, quindi inizio a vai, grammatica, analizziamo i verbi. Mi sento molto semplice, mi piace da morire. Loro, guarda, a livello di odio massimo in questo terreno. Però, detto questo, si sta in casa, noi non abbiamo neanche il giardino, quindi è ancora più tosta, è ancora più tosta, però loro si divertono. Per loro è un momento particolare, perché hanno i genitori, con mio marito in casa, siamo sempre in casa con loro. Ora, prima di fare la diretta ho fatto questo gioco che si chiama Celai, non so se l'hai mai giocato, chiedemi toccare, è tutta sudata. E niente, mi diverto, perché la prima cosa per me fondamentale sono i miei figli. Infatti, guai, chi me ne tronca, anche se sono tremendi, mi fanno impazzire. Vanno a leggere tantissimo, però vabbè. Loro vorrebbero che si continuasse così eternamente. Dico, ma cosa c'è? Rimaniamocene in casa per sempre. Eh, vabbè. Allora, senti, volevo prendere un po' di domande che sono arrivate in questo momento e anche che ho raccolto nelle ore precedenti. Allora, una domanda è questa. Ti chiedono se hai mai seguito nel corso della tua carriera un percorso assistito di mental training e in caso come ti sei trovata e come è funzionato. Allora, devo essere sincera. Sì, e con alcune persone da Dio, con altri da uccisione proprio totale. Tipo, avevo un mental coach che aveva comprato un pupazzone a Luna Park e lo metteva in palestra. Quindi, tutte le volte che si sbagliava qualcosa bisogna andare dal pupazzone a dare il pugno. Ora io, considerando come sono, vedere quel pupazzone lì mi dava, cioè lo odiavo. In più, questo pupazzone faceva anche la trasferta con noi e stava nel primo posto dell'autobus quando si parteva col pullman. Lui stava al primo posto sul pupazzone e stava anche in panchina. Io lo odiavo terribilmente. E mi ricordo che una volta avevamo perso, lui, questo mental coach diceva tutte le volte che sbagliate andate a dare un pugno al pupazzone. E lui diceva, ma guarda il pugno che te lo do a te. Non so se si può dire. Quindi ho avuto dei mental coach fantastici, veramente, ma anche dei grandi cretini. Quindi, per favore, chi vuole fare questa cosa, per cortesia che, insomma, sia sul... Professionisti, seri e preparati, perché purtroppo in giro ci sono davvero tanti ciarlatani. E sono d'accordo. Allora, poi, volevo prendere questa. Allora, qualche consiglio. Qui chiedono leadership al femminile in ambienti anche maschili. Cioè, il tema della leadership al femminile, in effetti, è un tema che deve essere qui per restare. La mia idea è che la leadership del futuro sarà femminile, Maurizia, perché ci sarà sempre più bisogno di ascolto, come dicevi tu, di accogliere, di empatia, di emozioni. E solitamente, non che i maschi non ce abbiano di default. Però, solitamente, sono tutte delle caratteristiche più associate al femminile, no? Che al maschile. Guarda, io sono dell'idea che siamo complementari. Nel senso, la sensibilità della donna e forse anche l'empatia. Perché le donne riescono a leggere, forse, con un altro occhio, chi abbiamo di fronte. Gli uomini, invece, magari certi dettagli non li vedono. Detto questo, le donne, invece, a differenza degli uomini, se qualcuno sbaglia, sono finite. Nel senso, ci ricordiamo che nel 2001, alle 12 del pomeriggio, quell'atleta o comunque quella collega aveva fatto questo e quindi non la perdonerò mai. Siamo un pochino più contorte. Però, io vedo nel mio ambiente questo discorso di sentirsi in discussione con gli uomini, non l'ho mai sentito. Ma, in ambito aziendale, spesso l'entino, ho sentito questo, no? Che le donne non si sentono, diciamo, ascoltate come dovrebbero essere, insomma, che c'è grande diversità. Io invece credo che sia un'opportunità, sia per l'uno che per l'altro, e che le donne devono davvero dimostrare, senza stare sempre a dire gli uomini, gli uomini, ma dimostrare quanto davvero possono dare in più in qualsiasi ambito. Un'altra sfida, diciamo. Quindi tu leggi questo ancora con la mentalità della sfida, no? Quindi cercare di… Certo. E ritornato al discorso che abbiamo fatto prima, di non starsi a lamentare. Eh, ma questo è un ambito tutto maschile, un ambiente tutto maschilista. Cioè, per me è un'accavolata assurda. Perché anche se in un ambiente maschilista, tu devi trovare il modo, visto che hai queste soft skill, di entrare e di lavorarci sopra. E questo è un altro spunto interessante, secondo me. Perché io vedo anche che alcune delle donne che riescono a conquistare delle posizioni di leadership, purtroppo, un po' ossessionate, tra virgolette, in senso buono, dal tema del maschile, diventano loro stesso un po' dei maschi emirati. Però non so come dire. E si perde invece il quid pluris del femminile, no? Ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Nel senso che poi dobbiamo dimostrare anche noi, no? Perché è vero che siamo stati anni a dar contro agli uomini. Però, secondo me, siamo complementari. Dove non arriva uno, arriva l'altro. E il fare squadra, il capire quanto è importante collaborare insieme, può essere un'arma in più. Senti, c'è Sara Runner che chiede. Tanti auguri, intanto ti faccio. Grazie, ragazzi. Un piano incredibile. E poi chiede, ci puoi raccontare cosa mangiavi e la tua vita durante i campionati? Uscivi la sera, che ora andavi a dormire? Una giornata tipo di Maurizia ai tempi dei campionati? Come era la tua vita? Cosa mangiavi? Se uscivi la sera, che ora andavi a dormire? Allora, in settimana era molto difficile che si uscisse per fare dei grandi festeggiamenti perché avevamo i fucili puntati, perché non si poteva. Detto questo, la mattina avevamo allenamento e dalle nove intorno a mezzogiorno, poi si tornavano tutti a casa. Io pranzavo sempre a casa e poi dalle quattro fino alle sette e mezza. Io parlo di quando giocavo a Bergamo, che sono stati gli anni, diciamo, più importanti della mia carriera, dove ho vinto praticamente tutto. E tutta la settimana, bene o male, magari un cinema la sera, qualcosa, ma niente di che. Io stavo molto a casa. Invece dopo la partita, dove solitamente si vinceva, perché a Bergamo avevano avuto tanto, si partiva e si andava a Milano. Quindi serate incredibili, di divertimento, perché siamo comunque umane e quindi si andava a festeggiare, anche se ci riconoscevano tutti, perché eravamo degli stoccafissi dentro queste discoteche. Però ecco, una vita come tutte le ragazze, un po' più sacrificata perché gli allenamenti erano impegnativi. Senti, un'altra domanda interessante è questa. Allora, quando l'impegno cala, come capire se è una richiesta del nostro corpo e quanto sforzarsi? Cioè, magari cala perché il mio corpo ha bisogno di riposare e io lo devo assecondare. Non so, tu hai mai fatto delle riflessioni su questo? È che conosci talmente tanto bene il tuo corpo che sai perfettamente quando è il momento in cui ti devi fermare, oppure anche quando sei particolarmente stanca mentalmente. Perché io ricordo momenti in cui ero talmente tanto sotto pressione che sentivo ancora più stanchezza e quindi cercavo di staccare. Ora, io ti racconto anche questa, che in un giorno avevamo due giorni di riposo, giusto per farti capire com'ero, e l'allenatore ci disse, mi raccomando staccate. Io ho staccato proprio di brutto perché ho preso un treno e andato a Parigi. Ovviamente per lui non era staccare in quel modo lì, però io sono andata a Parigi, sono partita la notte, sono arrivata al giorno dopo per starci quanto, pochissime ore, pochissime ore. Però per me staccare era quello, no? E quindi quando sono tornata ero distrutta fisicamente con quel viaggio. Poi se ci penso adesso non lo farei neanche mai. Però insomma quei tempi ero veramente fuori di testa. E ricordo che insomma sono riuscita a staccare la testa e a ripartire alla grande. Ora lo sapranno tutti, però insomma, vabbè, di tutto questo l'ho fatto. Era abbastanza ribelle in queste cose qua. Senti, ci chiedono, Andrea Steph chiede, perché non ci sono allenatrici di Palavolo ad alti livelli? Tu non hai mai pensato di fare tu l'allenatrice magari? Chiedo eh. Come mai? Allora, già faccio la domatrice in casa con i bimbi. No, poi lavoro tanto, non potrei fare allenatrice, anche perché realmente tollerai tantissimo ai miei figli. E poi ho fatto tanti anni in palestra, non me la sento proprio di ritornare. E detto questo, cos'è che chiedevano degli allenatori? E dunque, perché non ci sono allenatrici di Palavolo ad alti livelli? Questo è una cosa che dovrebbe essere una motivazione in più. In questo periodo in cui siamo tutti a casa, tutte le persone che hanno voglia, le donne che hanno voglia di fare allenatrici, di non pensare che non ci sono donne. Perché è vero, al momento non ci sono, ma se non dimostriamo che siamo delle grandi allenatrici, nessuno potrà. Cioè, nel senso, io credo che forza donne. Nel senso, chi vuole allenare è che non pensi che ci siano tutti questi limiti. Si metta in gioco e dimostri che non è così. Purtroppo i numeri dicono che gli uomini hanno più panchine. Eh sì, eh sì. Senti, un'altra domanda interessante a proposito di leadership, no? Suggerimenti per giovani donne che si trovano a guidare gruppi di persone più grandi o numerosi, o di persone più âgè, tra virgolette. Allora, prima cosa, non farsi mai mancare di rispetto. Perché il fatto di essere giovani può pensare che, insomma, le persone possono approfittarsene. Quindi mai mancarsi di rispetto. Secondo, essere il più empatici possibile. Secondo me l'empatia rientra in tutti gli ambiti. Quindi far capire velocemente chi abbiamo di fronte e essere dei punti di riferimento. Io non credo che l'età conti, però, perché ho visto e sottolineato il discorso dell'essere giovane, no? Una ragazza giovane ha tutte le carte in regola, forse ha meno esperienza, ma questo non toglie che non sia preparata e non possa essere davvero una fuoriclasse, ecco. Invece, scusami, sempre simile probabilmente la risposta, però, cosa consigli in questo periodo per coinvolgere team pallavolistici adolescenziali? Quindi nel caso in cui probabilmente il dislivello di età sia all'opposto. Allora, anzi, io credo che non è mai… cioè, i ragazzi oggi… io, ad esempio, ho una bimba che va in seconda elementare e vuole giocare a pallavolo e è già troppo tardi, perché ci sono già tante bimbe che hanno iniziato. Quindi di non porsi i limiti, di andare oltre e che se i nostri figli sono indietro, di allenarsi comunque, no? E di non permettere mai a nessuno di dire, no, te sei ormai troppo avanti. Perché questa è l'età per i nostri figli. Lo sport è uno dei più grandi strumenti per far sì che i nostri figli siano davvero delle persone, a mio avviso, migliori. Perché allenano non tanto la schiacciata o la coppa che alzeranno, ma il fatto di collaborare, di venersi incontro, di avere fantasia, di rinventarsi. bello, bello. Senti, chiedono, è più stancante allenarsi ad alti livelli o fare la mamma? è una della fida. la preparazione per un'olimpiade è una passeggiata, è andare alle Maldive. No, io poi ho due figli fatti con 12 mesi di differenza, quindi due gemellini. E devo dire che è un'altra Champions League. Più che altro la tenuta mentale, perché le domande, e poi corri, e poi vai di là, e poi metterli sotto i libri, e poi lavarli, e poi mamma, e poi nonna, e poi qui, e rimamba, e va. Quindi, insomma, è abbastanza tosta. Però è un'esperienza troppo bella, troppo troppo bella. Tu ne hai due, tre ne hai? io ne ho tre, porca miseria. Sì, ma di quali anni? allora, il primo ne ha sette, il secondo ne ha cinque e mezzo, tra un po' ne fa sei. Quindi i primi due, diciotto mesi di stanza. La terza, la principessa, è arrivata un anno e mezzo fa. dove li mi ascolti? Nel mobile? li ho sterminati! li ho sterminati! infatti ha a che fare queste chiamate, cioè questi corsi veramente non ternano all'otto, perché io gli dico, se parlate, cioè eliminate. Alcune volte strisciano sotto e io, si vede un braccio che… però guai, nel senso, io sono sempre stata una persona vera, non mi interessa nulla, sono tanto contenta, però è tosta, ragazzi, è tosta, ma è bello così. è vero, è strano, perché… non mi chiedono il tunnel bello tosto, io almeno sto vedendo la luce, ma ti anche… chapeau davvero, ti vedo bello rilassato, grazie. ho una grande moglie, ho una grande moglie, infatti. Senti, chiedono anche qual è la giocatrice con cui hai avuto più feeling in campo? ah, giocatrice con più feeling è stata tantissime. Vagna Mello, è stata Elisa Togut, avevo poi le mie preferite, di solito erano quelle più ribelli in squadra. E poi… no, ma un po' tutte, difficilmente sono state giocatrici che non sopportavo. Anche perché quelle che non sopportavo si vedeva benissimo, perché proprio ero tremenda. Però, diciamo, non ho mai avuto grandi problemi. Anche perché questa cosa, anche una sorta di allenamento, no? In squadra io ho sempre saputo che anche con alcune giocatrici che non sopportavo, io comunque dovevo fare la partita. E quindi era meglio, se me ne trovavo al mio lato, che non fare la guerra. E questo è un argomento per tutte noi donne, capito? brava, brava, giusto. Senti, allora le ultime domande, poi ti lasciamo andare i festeggiamenti. Ascoltami, vabbè, oh, ci sono tante tante persone che chiedono, non so se si può fare questa domanda, perché la chiedono in troppi. Com'era il tuo rapporto con la Piccinini agli esordi? Non so… Ma perché tutti hanno sempre pensato che ci fosse stata una grande rivalità tra me e Francesca. Il problema è che io ho sette, otto anni più di Francesca, quindi quando Francesca è arrivata a Bergamo era davvero una bimba e ero molto più grande. Quindi la Francia è stata una mia carissima ed è ancora, ora ancora di più perché siamo ancora più cresciute. Quando era più piccola, ovviamente non frequentavamo le stesse cose perché io ero più grande, però guai chi me la tocca. Evidentemente i gossip e tutto volevano vederci conto, ma a noi si rideva di brutto tutta questa cosa qua, perché si ritorna al solito discorso che le donne sono viste come sempre delle grandi antagoniste. Invece non è vero. Spesso e volentieri possono fare la differenza se unite. bello, bello. Senti, poi c'è questa domanda su quanto ha contato la tua bella immagine a darti notorietà oltre alla tua bravura? Per quanto mi riguarda, veramente zero. Perché io sono sempre stata in palestra, quindi non mi sono mai resa conto più di tanto di quello che usciva fuori. E quando usciva fuori qualcosa ci ridevo sopra perché mi hanno sempre detto, lei è sexy quella, ma io non mi sono mai sentita sexy. Io ho sempre lavorato con le mie compagnie e spesso gli intieri si ridevano di quello che usciva fuori. E non me ne sono mai fatta un problema, niente di più. Ho sempre giocato, ho sempre fatto la mia vita senza ascoltare il giudizio delle altre persone. ottimo. Allora, prima dell'ultima domanda, intanto vi ringrazio per tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che la registrazione di questa live tra qualche giorno sarà disponibile sul mio canale di YouTube come la registrazione di tutte le altre live. non è vero, ragazzi. Come possiamo convincerle? Allora, la prossima volta chiamate Francesca e vediamo cosa vi dice. Cioè, veramente, non è così. Perché bisogna sempre pensare che ci sia della rivalità. È una mia grande compagna e se devo essere sincera, spesso e volentieri ci diamo tanti consigli anche adesso. Quindi è un'amicizia che è andata anche oltre la palla a volo. bello, bello, no? Insomma, una bella storia. Allora, quindi, scusate, prima dell'ultimissima domanda. www.houseofminds.it, casadelementi.it, trovate l'elenco delle prossime live. Mercoledì abbiamo Riccardo Pozzoli, settimana prossima avremo Filippo Ongaro e tanti altri che ancora stiamo organizzando. E potete vedere anche le registrazioni delle precedenti live. Allora, Maurizia, se tu potessi… Ritorno al Futuro? Tu l'hai mai visto il film Ritorno al Futuro? no, li odio quei film. Guarda tutti i miei mariti, te li guardo. allora, io ho avuto un retroterra culturale che ha avuto anche quello. Allora, praticamente c'è un'automobile che si chiama la DeLorean che ti permette di tornare indietro nel tempo. Allora, se tu adesso potessi prendere la DeLorean e tornare indietro e parlare con la Maurizia Cacciatori diciottenne. Cosa le diresti? Hai due o tre cose che le puoi dire al massimo. Da dove inizieresti? Allora, la prima cosa gli direi, contiva così che va bene. Cerca di stare un pochino più tranquilla perché a febbraio del 2020 arriverà il coronavirus, quindi ti dovrei dare una regolata. No, detto questo, io gli direi non potrei dirgli niente perché non mi ascolterebbe, capito? Sarebbe veramente difficile, sono troppo convinto. Però sarebbe una bella esperienza, dai. Va bene, dai. Maurizia, grazie di tutto, sei stata gentilissima. È stato un piacere grande. Se prima ti stimavo adesso ti stimo ancora di più perché ho scoperto che c'hai tre figli, povero Muno. Però un giorno mi fai conoscere tua moglie. Volentieri, dai. Quando finira tutto questo ci incontriamo. Grazie, grazie, grazie per averci ascoltato. Ciao. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. 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 Ciao.